WLB Vlogs, buongiorno a tutti, secondo episodio, siamo qui WLB Vlogs Dove siamo andati, ragazzi? Sembrava la mostrocia, è andata non buona, però Giornati in gommone, Ale, eh? Giornati in gommone? Eh, però ora ci andiamo a scoppiare per bene nell'aria E attrappare! Gatti! Gatti? Yeah, yeah! vivendo il sogno sul nostro corpo una bellissima giornata in furgone chiaramente stiamo facendo questo riso al pomodoro mantecato quindi ora lo lavoriamo bene bene Ciao Vipo chiedi la porta e non lo prego Sicuramente però dai stiamo dormendo Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Siamo con la città e stiamo spettando tutte le luci Shaka brà e stiamo spettando tutte le luci Ok Senti veramente Stiamo scoppiando a cosa Ok Questo è Stiamo andando a mangiare Sto per morire Andiamo a fare domani Andiamo a scoppiare nell'aria Andiamo a sfondare Andiamo a sfondare a cosa Beh secondo te No no Ditemelo voi Sì 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 Cioè me lo scello un po' Un po' alle mie Carambe Dietolo, dietolo a tutti e due Carambe